i grandi artisti sono quelli che impongono la propria visione all'umanità e tu dimmi sei sveglio oppure c'è le allucinazioni e guarda vada bene che anche io potrei essere un'allucinazione e so anche che per questa cosa che ho detto potresti considerarmi un po pazzo perché in realtà sei sicuro di vedermi su uno schermo che poi sia quello della tv o del cellulare è poco importante perché tanto noi facciamo street photography mica facciamo filosofia ma questo non ci mette al riparo dal fatto che la realtà altro non è che è un'allucinazione collettiva e non ammetterla questa realtà è un vero e proprio problema guarda per esempio questa tazza qua è di colore grigio azzurra in effetti non so nemmeno io di che colore sia effettivamente però è un esempio perfetto di come l'esperienza sensoriale sia assolutamente soggettiva perché il colore che tu stai guardando in questo momento non appare esattamente il colore che invece guardo io e questo è dovuto alle differenze nella fisiologia degli occhi di ognuno di noi ma anche nell'elaborazione del nostro cervello e perfino nelle esperienze culturali che possono influenzare la nostra percezione questo perché il cervello fa uno sforzo incredibile fa un lavoro incredibile nel cercare proprio di interpretare tutti quanti gli input sensoriali utilizza un modello predittivo per tentare di anticipare sempre e di interpretare quello che in realtà sta percependo e questo modello è basato sulle esperienze passate ed è per questo che a volte quello che percepiamo non corrisponde sempre alla realtà oggettiva ma è piuttosto una sorta di migliore risposta a tutti quanti gli indovinelli che ci fa il nostro cervello e ma quindi tutto sto popò di discorso per capire cosa è più che altro per farvi una domanda e cioè questa che cos'è potrebbe essere un opuscolo potrebbe essere un giornale una rivista indipendente un periodico alternativo o anche un pamphlet ma ancora potrebbe essere una brochure creativa potrebbe essere un magazine ma in realtà non è niente di tutto questo perché questa è street wave è la nostra fanzine e trovate il link per acquistarla sotto nel primo commento ma anche nella descrizione a questo video street wave è la vostra fanzine è la vostra personale allucinazione c'è chi ci ha visto qua dentro qualcosa di eccezionale mi fa piacere su un contento ma invece c'è chi la considera una cacata ma ci sta però vi voglio dire io oggi che cosa è per me perché mi ostino a chiamarla ancora fanzine perché per me è l'espressione più autentica della vostra street fotografi della vostra arte le fanzine in generale sono una pubblicazione non professionale non ufficiale che nascono dalle mani e dalle menti di artisti entusiasti di un certo fenomeno culturale sono delle idee da sfogliare e sono autoprodotte la nostra fanzine è pop nel senso che non vogliamo sia per pochi però è anche punk perché è e resta indipendente in tre parole il concetto alla base di street wave è il fattelo da solo è una sorta di viaggio libero è un viaggio pieno di speranza è un legame con chi si era una volta con chi si vorrebbe essere domani e anche su dove vorremmo andare tutti quanti insieme la nostra fanzine permette a chiunque la sfoglia ovunque si trovi di unirsi in questo viaggio e di immaginare di tenere traccia anche di tutte quante le proprie fughe e di tutte quante le proprie ambizioni sia nel mondo ma anche nella propria creatività nessun grande artista vede il mondo vede le cose per quello che sono realmente perché se così fosse smetterebbe di essere un artista e questo lo diceva oscar wild è infatti un'opera d'arte un'espressione della realtà di un altro individuo ci permette di assistere a un fermo immagine del suo punto di vista sul mondo prendiamo per esempio la fotografia qualunque di street photography ecco la nostra percezione è influenzata da input come lo stimolo visivo ma anche dalle proprie esperienze che condizionano l'elaborazione finale dell'immagine la nostra visione delle cose è fortemente condizionata dalla percezione soggettiva ogni immagine infatti è di per sé ambigua perché nasce dall'esperienza personale di chi l'ha scattata e l'osservatore risolve questa ambiguità inserendo anche le proprie vicende il proprio passato i propri conflitti contribuendo alla definizione della fotografia con una forte dose di soggettività in sostanza l'arte e quindi la nostra fotografia la nostra amata street photography diventa un dialogo tra chi la fa e chi la osserva e quindi tutte quante le nostre fotografie sono un ponte tra l'immaginazione dell'artista e anche il viaggio emozionale di chi la sta osservando rendendo perciò ogni esperienza unica e assolutamente personale ma perché ogni fotografia che c'è qui dentro e dentro io la considero così importante la considero arte perché noi non possiamo mai sperimentare completamente la realtà interna in un'altra persona perché ognuno di noi è inimitabile e questo confine tra le coscienze rende proprio ogni esperienza umana unica e in un certo senso anche solitaria ecco perché è un'allucinazione se ci pensate bene gran parte di quello che noi consideriamo reale è costruito ed è assolutamente convenzionale prendete il denaro per esempio è un pezzo di carta oppure un pezzo di metallo ma tutti quanti però ne accettiamo il valore crediamo nel suo valore la realtà quindi è un consenso è un accordo collettivo è qualcosa qualcosa che ci fa sentire meno soli nel mondo ed è ecco perché noi abbiamo creato street wave per sentirci meno soli nelle nostre personali allucinazioni perché è proprio questa l'arte ma chi si sente più bravo chi si sente più grande degli altri e questo non lo ammetterà mai per paura di perdere il prestigio di sentirsi un posto l'arte è un concetto troppo vasto e troppo variabile per essere inscatolato in una definizione semplice e per molti questo può essere destabilizzante perché lo so è difficile non avere una regola chiara perché tutti quanti noi amiamo le certezze quelle linee guida che ci aiutano a navigare la complessità del mondo però con l'arte e noi dobbiamo accettare anche che la realtà è un po più sfuggente tradurre in parole l'arte è un problema perché vuol dire creare un contenitore per qualcosa che invece è fluido e questo contenitore viene poi riempito dalle mie ma anche dalle vostre percezioni dalle mie ma anche dalle vostre conoscenze del mondo dalle mie e dalle vostre esperienze ed è proprio qui che street wave diventa unica perché l'arte condivisa suscita emozioni e ne consegue quindi un mix di sensazioni personali ma anche collettive l'arte della street photography è complessa e molti sfaccettata e il nostro compito è quello di esplorarla di discuterla e alcune volte anche di restarne confusi è questo processo di esplorazione di discussione che arricchisce la nostra comprensione e il nostro apprezzamento della street photography nella sua critica del giudizio kant sosteneva che la bellezza e quindi l'arte non può essere definita attraverso dei concetti o dei principi logici la bellezza non ha niente a che fare con l'oggettività oppure con definizioni precise piuttosto la bellezza è un riflesso della libertà interiore di ogni individuo della sua capacità di vedere nell'arte proprio qualcosa che trascende la semplice materialità kant credeva che l'arte riflettesse una sorta di incondizionatezza una legazione di ogni condizione materiale di ogni condizione logica è ben definita l'arte quindi non può essere replicata in serie oppure prodotta seguendo una formuletta qualunque ogni opera d'arte è unica perché unico l'artista ogni fotografia è unica perché unico il fotografo e nasce non soltanto dall'intento progettuale dell'artista ma anche forse soprattutto dall'interazione tra questo progetto è un elemento che c'è sempre che si chiama imprevedibilità e mistero e forse platoni in questo aveva già capito tutto sull'arte perché la descriveva come una produzione di fantasmi come la produzione di ombre di realtà che non sono sempre quello che sembrano e allo stesso modo per shakespeare il teatro era fatto di sogni un mondo di illusioni che però riusciva a rileva a rivelare profonde verità sulla vita e sul mondo intero in definitiva l'arte e di nuovo quindi la nostra amata street photography affascina e confonde perché un ponte tra il reale l'immaginario tra il materiale e il metafisico la street photography non ci fornisce delle risposte definitive però piuttosto ci spinge a interrogarci a riflettere e a riflettere anche sulla nostra realtà e sulla nostra percezione del mondo attraverso le nostre fotografie impariamo di più su noi stessi e anche sul nostro posto e anche sul nostro posto nel mondo proprio perché l'arte resiste a qualsiasi tentativo di riduzione a semplici significati oppure semplici definizioni e questa la potenza delle vostre fotografie le vostre fotografie non sono soltanto qualcosa da ammirare in silenzio oppure da criticare come leggo in tanti post perché sono frutto di mode le vostre fotografie sono un catalizzatore di conversazioni un modo per esplorare per riflettere collettivamente su temi che ci toccano tutti quanti nel profondo e quindi piuttosto per limitarci a chiedere che cos'è la street photography oppure che cos'è la nostra fanzine dovremmo piuttosto esplorare che cosa la street photography fa per noi come ci sfida come ci unisce e come trasforma anche il nostro modo di rivedere il mondo intero f4 è la community più imitata sul web perché tanto se lo fa f4 lo posso fare anch'io e che ci vuole ma in realtà non è proprio così e non è così perché f4 siete voi con tutte quante le vostre personali allucinazioni senza nessuno qui a censurarvi con questa oppure quella regoletta o questa o quella citazione più o meno famosa sulla street photography e street wave è molto più di una fanzine perché è un dialogo continuo tra voi fotografi e noi che osserviamo rendendo perciò ogni numero un'esperienza unica e assolutamente personale un'esperienza unica e assolutamente personale un'esperienza unica e assolutamente personale così il